Ciao a tutti ragazzi, io sono Maki ed eccoci qui con una nuova Current Household, che è un po' diversa perché in realtà io con questa partita ci sto giocando su Twitch insieme a voi, però ogni tanto mi sa che porterò degli aggiornamenti qui su YouTube, così che anche chi non mi segue su Twitch può comunque conoscere questi personaggi. E ragazzi si tratta della Carly Legacy, creata da Carly and Curious, questa sfida mi piace tantissimo, per chi non la conoscesse praticamente si tratta di una legacy, una legacy proprio a generazioni standard, soltanto che, vabbè lui fa peti, ignoriamolo, diciamo che è proprio appunto come una legacy standard fatta a generazioni, soltanto che ogni generazione ha degli obiettivi specifici. Nel caso della prima generazione, che sarebbe appunto questa, i nostri obiettivi sono quelli appunto di occuparci del giardinaggio, dell'erboristeria, del benessere, eccetera, eccetera. Il mio personaggio, diciamo, principale, la fondatrice, diciamo di questa legacy, magari siediti qui con Raj, è lei, si chiama Devin, Devin Mayfield ed io la adoro tantissimo, mi piace un sacco ragazzi questa sim, anche perché proprio, c'è proprio il suo carattere, non lo so, spicca tantissimo, secondo me, in questa sfida. E niente, in pratica lei conosce Raj da quando era, tipo, adolescente, andavano a scuola insieme, sono andati anche al college insieme, e diciamo che ha sempre avuto una cotta per lui, e in effetti anche lui aveva una cotta per lei. Infatti, ultimamente dicevo che questa cosa si è sviluppata, e adesso si sono addirittura sposati, perché sono andati a Granite Falls insieme, per una vacanza appunto di coppia, perché poi si sono fidanzati, e vabbè, loro intanto parlano. Quindi si sono fidanzati e praticamente, poi lì a Granite Falls in realtà è successo un pochino di drama, perché praticamente lei ha ricevuto... Che succede? Oh mio Dio, fatti urlare contro! Ma che vuol dire? Ragazzi, drama qua in diretta, current household. Non so perché lui si è arrabbiato, forse perché non lo ha ringraziato della colazione, ma... non capisco! Vabbè, Raj si è arrabbiato, ragazzi. Vabbè, non lo so, poi vedrò in diretta anche su Twitch come risolvere questa cosa. Vabbè, perché in realtà adesso vi devo raccontare appunto questi drammi. In pratica lei a Granite Falls, magari guarda, sediti qui, perché sei un po' arrabbiata anche tu adesso, Corrage, che ti ha urlato contro senza motivo, praticamente dicevo per l'ennesima volta, ha ricevuto come messaggio, anzi chiamata, quella dell'eredità. Quindi che è un suo bis, bis, bis nonno, insomma, o zio, qualcosa del genere, le aveva lasciato un'eredità. Le ovviamente ha accettato soltanto che c'erano le condizioni di doversi sposare entro sette giorni per poter ricevere quest'eredità. Quindi lei comunque mi era già spuntato qui tra i desideri, proprio il desiderio di voler fidanzarsi ufficialmente con Rage. Quindi lei era spuntato questo desiderio comunque prima di questa telefonata. Però, diciamo, ha accolto quest'occasione per chiedere appunto di sposarlo, soltanto che non gli ha detto di aver ricevuto questa chiamata. Quindi lui non sa che lei lo ha sposato, diciamo, da un lato, soltanto da un lato appunto perché lei comunque voleva sposarlo già da prima, lo ha sposato anche per i soldi. Quindi io non so come andrà a finire questa cosa perché lui prima o poi probabilmente verrà a scoprirlo. Quindi chi lo sa? Chi lo sa sarà un po' un po' drammatica questa situazione. Già vedo che litigano, chissà che lui non abbia capito qualcosa. Ma in realtà secondo me litigavano per... Che stai facendo tu? Leggiti questo. Litigavano per la madre di lui perché non so se voi l'avete riconosciuto. Comunque lui è Rajarasoya, ovvero un sim uscito con Vita in Città e lui viveva con sua madre. Aspettate che ve la mostro. Qui sono un pochino modificati ma comunque c'è sempre, insomma, lei. Gita, che è un critico gastronomico e lui, come vedete, ha un super rapporto con sua madre. Cioè la adora e sua madre adora lui. Diciamo che però forse quest'amore è anche un po' troppo... Non so se dire ossessivo, però diciamo che Gita è molto possessiva nei confronti di Raj. Infatti quando ha scoperto che lui si era sposato con Devin, diciamo che non era per niente felice. Perché lei comunque, Gita, conosceva Devin già da prima ovviamente. Perché, ripeto, loro erano amici già dai tempi del liceo. Quindi la conosceva e le stava simpatica. Nel senso che la trovava una buona influenza anche su Raj, gli faceva fare i compiti, insomma. Le stava simpatica. Finché Devin non ha deciso di sposarlo. A quel punto, diciamo che Gita non ha per niente apprezzato Devin. Perché per lei Raj è solo suo. È il suo bambino, lo deve proteggere da tutte le donne. Quindi c'è questo drama con la madre, di cui in realtà tecnicamente Raj non sa niente. Perché la madre davanti a lui si comporta normalmente con Devin. Quando Raj non c'è, inizia a comportarsi invece in modo perfido. Quindi, non lo so, secondo me la madre potrebbe mettere zizzaria tra di loro. Magari, non so, cerca di non sminuire Devin, ma fargli credere che Devin si comporti male anche con lei. Non lo so. Perché comunque mi è sembrato strano che lui le abbia urlato contro adesso. Quindi c'è da vedere questa situazione. Loro ancora non hanno figli. In futuro sicuramente li avranno, perché devo andare avanti ovviamente con le generazioni. Però non mi sembra il caso di affrettare. Io per il momento ho messo la vita su lunga. Perché tanto, per via insomma di questa challenge, non ci sono regole riguardo la vita precise. Nel senso che si può mettere lunga, credo anche corta addirittura, normale eccetera. Quindi ho deciso per il momento di metterla su lunga. Ma magari poi la cambierò. La casa l'abbiamo costruita in live insieme. Ancora ovviamente è da finire. Sto aspettando di avere un po' di soldi in più perché vorrei allargarla. E per il momento però è questa qui. Dietro ho messo il super giardino. Cioè guardate quante cose che ha. Abbiamo alberi di melo, piantaggio, insomma il platano, pianta di basilico. Cioè abbiamo ragazzi di tutto qui. Alcune cose in realtà sono fuori stagione adesso perché è appena arrivato l'autunno. Però insomma è un super giardino. Ovviamente abbiamo anche la pianta mucca. Queste ragazzi l'abbiamo trovata, io sconvolta da questa cosa, l'abbiamo trovata al festival delle spezie. Cioè io già in realtà stavo impazzendo perché pensavo, oddio adesso devo andare a pescarla, vediamo se la trovo. E invece l'abbiamo trovata piantata lì al festival delle spezie. È stato bellissimo. Quindi niente, insomma vorrei ampliarlo ancora di più perché comunque siamo nell'otto questo qui enorme, 64x64. Quindi io vorrei fare proprio un super giardino qui dietro. Solo che ripeto ancora non ho i soldi per decorare il tutto. Quindi magari in futuro. Però sì, questo è il mio piano. E niente, praticamente credo sia tutto. Adesso magari vi mostro le loro carriere. Allora, premettendo però una cosa. Io sto giocando nel salvataggio di Simly, sì, perché mi piace molto. Comunque lei ha tenuto i personaggi del gioco, li ha semplicemente un pochino modificati. Io il rage l'ho dovuto modificare ulteriormente perché non era proprio messo benissimo come Sim, perché in generale lui quando... cioè con vita in città insomma non è proprio bellissimo. Quindi gli ho dato un bel makeover intenso. Però aveva già una carriera che era questa qui di pasticcere. Quindi il livello 7 della carriera di chef e ha anche delle abilità. vi mostro. Cucina a livello 10, alta cucina, cottura al forno, mixologia, insomma variabilità. E poi c'è Devin. Ah, è come aspirazione a quella di grande famiglia felice. Mentre Devin, ovviamente come vuole la challenge, lei ha questa qui di fanatica dell'aria aperta. Però io posso cambiarla di tanto in tanto con botanista freelance. Le sto facendo tutte e due. Perché non sempre lei va a Granite Falls, quindi per iniziare questa dovevo andare a Granite Falls. Quindi ho iniziato con questa e poi mi sono spostata su questa. Ma appena conseguirò il livello 4 di erboristeria tornerò da botanista freelance e poi tornerò a Granite Falls. Insomma farò un po' e un po'. Per quanto riguarda la carriera è ovviamente una giardiniera a livello 4 al momento, ma penso che potrà ricevere la promozione già domani. Per il momento è una tagliafoglie. Come abilità diciamo che siamo messi abbastanza bene. Giardinaggio già siamo a livello 6. Devo lavorare di più sul benessere e sull'erboristeria. Poi abbiamo la cucina a livello 3. Insomma direi che siamo messi comunque abbastanza bene perché non abbiamo iniziato da tantissimo. In questa partita io mi sto divertendo ad utilizzare le festività. Ho scaricato delle festività diciamo personalizzate che sono materiale personalizzato ma mi piacciono un sacco. Qui abbiamo per esempio il giorno del volontariato ed io ho creato questa festività di fare proprio il volontariato perché secondo me ci stava tantissimo proprio anche con il personaggio di lei questa cosa di fare il volontariato anche perché in realtà mi era spuntato già questo qualche giorno prima quindi adoro. E niente ci sono qui varie festività che io adoro. A parte diciamo le classiche Halloween ringraziamento eccetera. Abbiamo i giorni di ferie, le decorazioni natalizie. Qui c'è un altro festival invernale ma lo elimino. Mi sa che si mettono in automatico. Abbiamo altri giorni di ferie, il giorno di San Valentino che io ho spostato in inverno perché tecnicamente ragazzi San Valentino è in inverno. Non so perché di solito viene messo in primavera. Vabbè non importa. Qui c'è un'altra vigilia di capodanno quindi tolgo anche questa. E niente quindi ripeto abbiamo varie festività. Alcune le ho trovate su su tumblr perché mi ispiravano tantissimo per avere proprio ispirazione, qualcosa di diverso anche nel gioco. E niente quindi mi piace troppo questa cosa di aver utilizzato le varie festività e anche queste tradizioni nuove. Magari ve le faccio vedere giusto velocemente quelle che ho scaricato perché mi ispirano un sacco. Ce ne sono ragazzi tantissime tantissime ed io le adoro letteralmente tutte. Sono troppo belle e rendono il tutto anche un po' più diciamo realistico e ho anche diciamo delle icone nuove. Magari se mi ricordo vi lascio in descrizione i link di queste mod. Magari non tutte quelle che mi ricordo perché le ho andate cercando un po' in vari siti. E niente quindi direi che con questo aggiornamento possiamo fermarci qui perché per il momento non è successo nient'altro. Fatemi sapere che cosa ne pensate di Devin. Io ripeto vi lascerò di tanto in tanto dei vari aggiornamenti di questa partita però se volete seguirla diciamo in diretta insieme a me insomma giocare insieme a me io la porto su twitch. Di solito il martedì il giovedì e il sabato faccio le live su twitch alle 5 e mezza salvo imprevisti ma comunque io aggiorno sempre su su instagram quindi se volete seguitemi anche su instagram sono in tutti i social DeFoxySimmer anche su twitch. E niente quindi direi che possiamo fermarci qui io vi mando un bacio enorme vi ricordo di mettere mi piace di commentare e di iscrivervi al canale se questo video vi è piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video ciao!